E' un luogo dove si dà una seconda opportunità alle cose appartenute al passato. Sì, ecco, sto cercando... Matteo, Frenchi, lei è Camilla. Ciao. 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 Da domani lavorerà con lui. La sua grazia ridà vita a quel luogo di ricordo. Popolato da strani clienti... Posso aiutare? No. Ma tu perché sei punk? Malati d'amore. Giuda, tu non mi conosci ma credimi, io non sono la solita ammiratrice. E cuori infratti. C'è stato un po' di tempo, eh? Eh, un anno, un mese e due settimane. Camilla ha un segreto, sussurrato solo dal vento. Eseggiamo il tuo ritorno. Ma cos'hai? Hai gli occhi lucidi? Niente. Un po' di febbre da fiera. Tutto sembra andare per il verso giusto. Ma talvolta il destino ha piani diversi dai nostri. E basta un colpo di vento a cambiarci la vita. Michelino, ma sai una cosa? Io non ho mai capito un cazzo della vita. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti